Salve a tutti, 20 maggio 1973 a Monza muore il grande motociclista finlandese Jarno Saarinen. 13 luglio 1974 papà Enzo Trulli, appassionatissimo di motori, dà al proprio figlio il nome Jarno, quando si dice insomma direzione obbligata. E ancora, Gran Premio del Canada 1997, il pilota della Prost Grand Prix Olivier Panis batte così in Canada e si frattura le gambe. Al suo posto viene chiamato proprio Trulli, a 23 anni già in Formula 1 con la Minardi, direttamente dalla Formula 3 tedesca. E Jarno coglie l'attimo. Al Gran Premio d'Austria è terzo in qualifica, scatta bene alla partenza ed è secondo, poi va anche in testa con grande autorevolezza. Solo il KO del motore Mugenonda gli rovina la festa, ma si guadagna la riconferma per il 1998. Alain Prost non proprio uno qualunque pronostica per lui un sicuro futuro da campione. Ma la storia di Trulli in Formula 1 sembra tutta un essere al posto giusto nel momento sbagliato, o viceversa, fate voi. La Prost è passata al motore Peugeot, naufraga anche se Trulli coglie il suo primo podio al Gran Premio d'Europa 1999. Non andò meglio con la Jordan, nonostante le strepitose prime file nel 2000 a Monaco e Spa, poi il passaggio alla Renault gestita da Flavio Briatore, e dal 2004 con un certo Fernando Alonso come compagno di squadra. Trulli non sfigura mai nei confronti del pupillo di Briatore, ma a Monte Carlo scoppia la crisi. Lo spagnolo finisce fuori pista, mentre Jarno vince il suo primo e unico Gran Premio. Trulli in scadenza di contratto si impunta, respinge il ruolo di secondo e da lì viene messo alle corde. Non lo aiutano questo brutto incidente a Silverstone senza conseguenze e il sorpasso beffa di Barrichello all'ultimo giro del Gran Premio di Francia, che gli soffia il podio. Il rapporto si rompe definitivamente e a stagione in corso Trulli passa alla Toyota. Sarà lui a regalare ai giapponesi il primo podio in Formula 1 e poi tanti altri piazzamenti. Ma la Toyota resterà un'incompiuta, soprattutto a detta dello stesso Trulli, a causa dell'introduzione regolamentare nel 2006 dei motori V8 da 2.4 di cilindrata. Quello nipponico, progettato dall'ex Ferrari ingegner Marmorini, sempre secondo Trulli, non si rivelò mai all'altezza degli altri. Le cose potevano decollare nel 2009. La Toyota, insieme a Williams e Brown GP, si dotò subito del contestato doppio diffusore che fece la fortuna di Jenson Button, ma non ne sfruttò il vantaggio. Al Gran Premio del Giappone, dove Timo Glock finì a muro in prova, Trulli fu secondo, ma non valse a nulla. Anzi, quando le cose hanno cominciato ad andar bene, hanno chiuso il programma, ha commentato amaramente Jarno. Da dimenticare, infine, il bienio con la Lotus, poi Caterham. L'abruzzese rinunciò senza creare problemi al contratto 2012 e al suo posto subentrò il russo Petrov con molti soldi in dote. Fine della storia. Che pilota è stato Jarno Trulli? Per me, talento puro, velocissimo, soprattutto sul giro secco, grande pulizia di guida. Difetti? Una tenuta fisica non ottimale e una certa rendevolezza caratteriale che in Formula 1 costa cara. Oggi Trulli è un rinomato produttore di vini di alta qualità e segue le sorti del figlio Enzo, alla ricerca della propria strada, dopo Karte, Euroformula, Formula 3, Superformula Light in Giappone e ora su Ferrari nel GT italiano in coppia con Thomas Biagi. In bocca al lupo. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video ti è piaciuto, intanto puoi guardare subito questi altri video dedicati a piloti italiani. Ciao!